Il Presidente del Consiglio è in questo momento a pranzo in Quirinale con Giorgio Napolitano. Si discute del Consiglio europeo di domani con al centro il lavoro. Sullo scenario economico e sociale il Capo dello Stato ha parlato stamattina di forte preoccupazione e incertezza, chiedendo di riavviare con urgenza un processo di sviluppo del Paese. Tra i due Presidenti il tema è anche quello delle sorti del Governo, sottoposto al record di fibrillazione politica, di cui si è lamentato Napolitano, invocando la continuità delle istituzioni e dell'esecutivo. Ma solo una tregua armata sarebbe l'esito del lungo incontro ieri sera tra Enrico Letta e Silvio Berlusconi, accompagnato da Angelino Alfano e Gianni Letta. Oltre tre ore all'indomani della sentenza sciocca del Tribunale di Milano, che ha condannato in primo grado il Cavaliere a sette anni all'interdizione perpetua dei pubblici uffici, provocando la rabbia dell'ex Premier tentato dalla rottura e furibondo per la non difesa da parte di Quirinale, Palazzo Chigi, Aleato di Governo, PD compreso. Ma per ora Berlusconi non ha intenzione di staccare la spina Letta. Non ne avrebbe la convenienza, con la prospettiva di un'altra maggioranza possibile, con Napolitano indisponibile a sciogliere le camere. Tra Berlusconi e il Premier, dunque, è stato siglato un accordo sulle misure per l'occupazione varate oggi dal Governo e sul rinvio dell'IVA, che il Parlamento potrà allungare a sei, ma che per ora è certamente di tre mesi, perché la copertura trovata è solo di un miliardo. Ipotesi minimalista, bocciata ancora stamattina da Renato Brunetta, come una soluzione debole che mette a rischio il Governo. Ma il Vice Premier Raffano getta acqua sul fuoco delle polemiche. Il Governo è andato in gol, anche se in zona Cesarini, dice. Mentre sul fronte giustizia dei forti malumori PDL si fa interprete Sandro Bondi, il più fedele portavoce di Berlusconi. Bondi parla di degradazione della vita politica con lo squilibrio tra potere democratico e ordine giudiziario, su cui nessun politico della sinistra e nessuna istituzione, dal Quirinale alla Presidenza delle Camere, hanno il coraggio di esprimere un giudizio onesto. Vogliono forse che diventiamo un movimento extraparlamentare, si chiede Bondi, perché il PDL starà con Berlusconi se dovesse essere interdetto dai pubblici uffici. Si conferma, insomma, il doppio registro del Cavaliere, oscillante tra responsabilità e estinti guerrieri. Mentre su una possibile successione dinastica in casa Berlusconi, di poco fa la smentita Fininvest. Di fronte a ripetersi di indiscrezioni su un impegno in politica di Marina Berlusconi, non possiamo che ribadire quanto più volte già detto in passato. Si tratta di ipotesi che non hanno alcun fondamento.